Nel mese di maggio 2015, il Comune di Pordenone, per rendere più semplice il pagamento della Tasi, ha iniziato ad inviare ai contribuenti i modelli F24 precompilati con gli importi da pagare. Tale invio è possibile grazie ad un lavoro di integrazione delle banche dati, intrapreso quest'anno e tuttora in corso. A beneficio di chi ancora per quest'anno non dovesse ricevere la comunicazione a casa, ecco le cose da sapere per pagare correttamente la Tasi 2015. Quali sono le scadenze per l'anno 2015? Può pagare l'importo in due rate, acconto e saldo. L'acconto va versato entro il 16 giugno, il saldo entro il 16 dicembre. Può anche scegliere di pagare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 giugno. Per quali immobili devo pagare la Tasi? Deve pagare la Tasi solo per l'abitazione principale e per le sue pertinenze, ad esempio un garage, una cantina o soffitta, una tettoia. Per ulteriori pertinenze dell'abitazione principale e per eventuali ulteriori abitazioni, dovrà pagare l'Imu e non la Tasi. Quanto devo pagare di Tasi? Per calcolare l'importo deve innanzitutto conoscere il dettaglio delle sue proprietà. Le serve perciò la visura catastale, che è reperibile online nel sito www.agenziaentrate.gov.it oppure recandosi all'ufficio provinciale del territorio, che a Pordenone si trova in via Borgo Sant'Antonio 23. La visura è gratuita. Se è in possesso di una visura recente e non ci sono state variazioni, può utilizzare quella. I dati che le servono per il calcolo della Tasi sono la categoria e la rendita catastale. Può utilizzare lo strumento di calcolo online disponibile nel sito del Comune all'indirizzo www.comune.pordenone.it slash Tasi. Tale servizio produrrà direttamente anche il modulo F24 compilato. Non ho ricevuto l'F24 precompilato e non posso usare Internet. Come faccio a calcolare l'importo? Ecco come si calcola l'importo della Tasi a partire da un esempio concreto. Lei possiede un'abitazione principale, che appartiene alla categoria A2 con una rendita catastale di 1000 euro e un garage che appartiene alla categoria C6 con una rendita catastale di 90 euro. Deve moltiplicare tali valori per 1,05. Si tratta di un coefficiente definito dalla normativa nazionale. Poi deve moltiplicare il risultato per 160. Questo è il moltiplicatore valido per abitazione principale e pertinenze. Per altri tipi di immobili, l'elenco completo dei moltiplicatori è disponibile nel sito del Comune. In tal modo otterrà la base imponibile, che nel suo caso è di 168.000 euro per l'abitazione e di 15.120 euro per il garage. Dovrà a questo punto moltiplicare la base imponibile per l'1,25 per mille. Questa è la liquota stabilita dal Comune di Pordenone per il 2015, invariata rispetto al 2014. Il totale così ottenuto è pari a 228,90 euro e rappresenta l'importo della Tasi dovuta per l'abitazione principale e la sua pertinenza per l'intero anno 2015. A questo punto dovrà arrotondare l'importo totale e suddividerlo in due rate, l'acconto e il saldo. Il modulo da compilare è disponibile in banca e in posta. Dopo aver inserito i dati anagrafici nella sezione Contribuente, compilare la sezione IMU e altri tributi locali, fornendo i dati richiesti, codice ente G888 per il Comune di Pordenone, indicare se si tratta di acconto o di saldo. Il numero di immobili, nel nostro caso sono due, abitazione e garage, in quanto vengono considerate le due unità iscritte in catasto. Il codice tributo 3958 per indicare Tasi, abitazione principale e pertinenze. L'anno di riferimento e l'importo. Come si effettua il pagamento? Il pagamento può essere effettuato presso gli sportelli bancari, postali, presso le edicole convenzionate, o tramite home banking. Siamo più comproprietari. Chi deve pagare? Nel caso ci siano più comproprietari di uno stesso stabile, ognuno paga per la percentuale di possesso. Dove trovo tutte le informazioni che mi servono? Nel sito del Comune di Pordenone, all'indirizzo www.comune.pordenone.it trova tutte le informazioni dettagliate e lo strumento per calcolare l'importo della Tasi. All'ufficio relazioni con il pubblico, Piazzetta Calderari numero 1, può ritirare un foglio informativo con tutte le notizie utili. Per ulteriori approfondimenti, può rivolgersi all'ufficio Tributi.